Una manovra economica da 20 miliardi di euro con tre obiettivi. Il responsabile economico del Partito Democratico non ha dubbi sugli interventi da mettere in atto per cercare di superare la crisi economica che sta attanagliando anche il nostro Paese. Una manovra economica come hanno fatto tutti i paesi del mondo, tranne noi, cercare soldi freschi per fare tre cose, ammortizzatori sul serio, piccole imprese, dargli respiro e investimenti soprattutto attraverso gli enti locali che partano subito. Queste tre cose li si fa prendendo 15-20 miliardi che è possibile prendere anche in una situazione difficile come la nostra. Sulla crisi lamenta l'assenza del governo anche nei rapporti con l'opposizione e invita il centrodestra ad accogliere le richieste del governatore della Banca d'Italia. In un anno io non ho mai avuto la possibilità di un dibattito parlamentare sulla crisi. Draghi ha detto un paio di cose crucialissime sulle quali noi battiamo da mesi. Per esempio che ci sono imprese, piccole imprese, che hanno investito, che sono aziende che hanno innovato e che adesso si trovano con i macchinari nuovi fermi e con le banche che chiedono i soldi. Se noi perdiamo quelle imprese lì, il nostro treno quando riparte avrà una ruota in meno. Sul voto in Bergamasca, dice Bersani, il risultato non è scontato. I buoni amministratori di centrosinistra saranno premiati. Abbiamo anche dato prove amministrative straordinarie. Qui per esempio c'è un sindaco, c'è un sindaco in questa città. Gli amministratori sono un po' dei fiori di campo. Nessuno sa come quando viene fuori un grande amministratore. Ma quando ce l'hai, buttarlo via è una sciocchezza. Io penso che i cittadini di Bergamo su questo sapranno riflettere. Una tornata elettorale che sarà anche la cartina di tornasole sullo stato di salute politico del Partito Democratico. Certamente noi, dopo questa elezione, dovremo riprendere il filo di una discussione per rafforzare il nostro progetto. Ma insomma questo paese ha bisogno di una grande forza riformista e tocca a noi. Su questo non c'è dubbio. Grazie a tutti.